Abbiamo capito che le tue passioni sono il cibo, dei funghi, ah una lucertola, ma ci saranno le cavalcature? Una coscia, delle carote, un cinghialino, paimon poi io ti mangio, sto mangiando focaccia, caldo spero che fosse la cucina, una deliziosa bistecca, ah una patata, io voglio troppo un cavallo, ma quanto sono appetitosi sti piatti, la mangio quando finirà tutto il cibo ovviamente. Il furto, oh c'è un libro, guarda tu se ci dobbiamo arrampicare nelle case altrui, oh non c'è nessuno eh? Qualcuno ha dimenticato un libro qui, ah presa, oh lì c'è una cassa, voglio le uova, adesso voglio entrare in casa di qualcuno, ma io questa roba la dovrei vendere, è il bungee jumping, adesso però mi voglio buttare, io mi butterei, ma ci possiamo tuffare? sozusagen, dobbiamo arrampire l'amore. Grazie a tutti.